La matematica è un complotto degli adulti a danno dei bambini. Ho mai detto che ti chiami? Perché la maestra è veramente una scema, per domani ci sono andato 20 problemi di matematica, se mi vuol dire 20, 10 per 10. Noi non ce l'abbiamo la previsione a casa. E la sera che fate? Ma non lo so, magari mia mamma ci legge dei libri, oppure cercano a scacchi, oppure andiamo a dormire. Mi dispiace veramente tanto. Ma era così diverso dall'altra ragazzina. Ma che là dentro c'è per davvero una cigata? L'ho detto che moriva. Una malattia rara, la sindrome di Mull. E nei bambini della nostra età li fa svenire. Tra la derivata. Girardina, ciao sono Tommaso. Il prossimo brano si intitola Radice di due. L'ho scritto per una persona che per me ha rappresentato un mondo. E tu che cosa sai fare di strano? Ultimamente mi sto allenando a fare i ruti artificiali. Il treno ti impida in una galleria e noi dobbiamo saltare. Ma tutti scemi, non li lasciamo. Io sto con una che prima mette sotto il cane, poi c'è rimasto sopra me e finirlo. Non so se te verrà normale. Il tuo problema è che tu pensi che l'amore sia sempre un ragazzo, ama una ragazza ed è ricambiato. Ciao Tommi, due rette che giacciono sullo stesso piano e che non hanno punti in comune e si dicono parallele. Io e te siamo come quelle due rette. Tu sì, che sei tu da un'altra storia. Ciao Tommi, due rette che giacciono sullo stesso piano.